Anticipazioni beautiful, incredibile, follia, fine Hop assieme. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo un'anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. L'anticipazione di oggi ruota completamente intorno ai sentimenti dei giovani protagonisti della serie. Da un lato il rapporto tra Liam e Hop è giunto al capolinea. Hop è alla ricerca di un uomo tutto suo da non dividere con nessuna altra e soprattutto che la metta davanti a tutto e tutti. È stufa di essere considerata da Liam sempre dopo Steffi. Proprio per questo cambierà opinione su Thomas. Nonostante il giovane Forrester in passato le abbia creato tanti problemi, tra cui l'ossessione che aveva per lei, adesso Hop non esclude di poter vivere, con lui, una storia in cui essere la prima e unica nel cuore del partner. Intanto, un'altra relazione che, pian piano, si sta logorando è quella tra Finn e Steffi. Il fatto che lui si sia riappacificato con Sheila e che passi del tempo con lei, porterà a grandi stravolgimenti fino ad arrivare ad una possibile storia d'amore tra Hop e Finn. Infatti Liam e Hop si sono lasciati. Quindi lei è libera di capire se lasciarsi andare alle attenzioni di Thomas o buttarsi nelle braccia del bel dottore. In più lui Liam nutre dei sentimenti per Steffi e fa di tutto per proteggerla soprattutto dalle bugie di Finn. Quindi tutto lascia credere che, da un lato, Liam e Steffi torneranno insieme. E dall'altro Finn potrebbe conquistare Hop. Lei è una donna molto bella e decisa e Finn potrebbe apprezzare queste qualità e sceglierla come donna perfetta con cui dividere la sua vita. L'unico ostacolo alla possibile storia d'amore, dicevamo, potrebbe essere la presenza di Thomas che continuerà, come fa da sempre, ad attirare l'attenzione di Hop. La Soap Beautiful si preannuncia piena di intrighi, complotti e colpi di scena imprevedibili mentre le passioni tra i personaggi si incrociano e cambiano all'improvviso in modo inimmaginabile. Continuate perciò a seguirci. Alla prossima!